Ciao a tutti carciotti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Space Survival qui su Minecraft in questa nuovissima serie Questo è il secondo episodio e nell'ultimo siamo rimasti che dovevamo creare una farm di patate Le patate ce l'ho nel mio inventario Andiamo solamente a capire bene come comportarci per andare a prendere le cose che ci spettano Cioè l'acqua Abbiamo bisogno di acqua La base l'abbiamo creata qui in questa isoletta che era a disposizione Si è rivelata molto comoda in realtà Non è una vicella spaziale che ha poco spazio Però non è neanche insomma una reggia platonica Platonica non è un aggettivo ad aggiungere a reggia Ma io l'ho appena fatto Sai quanto cazzo bene? Oh mio dio ci sono gli scheletri Quanto cazzo bene? Pum Cadi, 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 cadi Non cadono È caduto È caduto Sono caduti Perfetto Perfetto Non è un problema Mori Allora Ho solo un problema Sapere se mettendo dei blocchi qua sotto riesco a ottenere dell'acqua Ho bisogno di ottenere dell'acqua amico mio Proprio ne ho bisogno Allora facciamo così Facciamo così Metto due blocchi qua La cosa essenziale, signori, perché è una fonte d'acqua infinita È avere le quattro cose a disposizione Allora Facciamo un buco qui E mettiamo un blocco lì Ok, un blocco d'acqua ce l'abbiamo Poi facciamo la stessa cosa di qua E mettiamo un blocco lì Ok Rompiamo questo E mettiamo lì un altro blocco Rompiamo questo E mettiamo qui un altro blocco Ecco perché dovete sapere ragazzi Che per fare ciò che voglio fare Una cosa è necessaria Avere dei blocchi sotto al ghiaccio Ecco qui In questo modo rompendo i blocchi di ghiaccio Otterremo dell'acqua E rompendo questo Acqua infinita in teoria Sarebbe piaciuto? Non è questo il caso? Signori e signori Acqua infinita L'unico problema mio È che Uh sì che ce l'ho il secchio Ah qua c'è anche una cesta Tra l'altro Snow snow pumpkin Interessante Interessante Ecco la cosa che non avevo preso In considerazione È che io effettivamente Ce l'ho il secchio Ne ho uno solo Quindi è stato bene Creare comunque La fonte d'acqua infinita Però siamo a un buon punto Molto meglio di quel che credessi Riesco a scendere comunque Qui con tranquillità? Va Perfetto Direi che qui possiamo creare Una nostra bellissima Simpaticissima Personalissima Farm Di patate Mettiamo un paio di torce Giusto perché Non voglio sorprese qua sopra Non voglio che spawni nessuno Essenzialmente Anche perché ho poco cibo Quindi se mi Fanno altro danno Potrei morire malamente Allora cosa posso fare? Decisamente voglio provare Ad andare qua sotto E vedere se c'è qualcosa Che si nasconde Magari c'è qualche stanza Sotterranea Qualcosa Non c'è assolutamente Niente Perfetto L'abbiamo capito Tutti assieme Metti un blocco là sotto Per impedire di cadere Come un cojone Cos'è da quello? Ragazzi Visto con la putifine Ho scoperto che si può zoomare Guarda Pah Blocco di ferro Doro Blocco doro Da c'è cobblestone Posso zoomare Ciao Ciao Io mi chiamo Mi chiamo Ugo Mi chiamo Ugo Mi piace sparare frecce Perché Non ti rivolgerò più la parola Vai via Scusa Ugo Scusa non lo farò mai più Povero Ugo Ok Non ho delle ossa Questo potrebbe essere un problema Però vi dirò un'altra cosa Mi farò altre torce Perché non voglio davvero sorprese Su quest'isola Ed è anche per questo Che eliminerò Gli alberi Perché così Non possono spawnare Sopra I mob Dovete considerare una cosa Essendo sempre notte In questa mappa Ah ci sono i blocchi di carbone Ecco una cosa comoda Considerando che Come vi dicevo È sempre notte I mob Sono una Minaccia Minaccia costante Costantissima E voglio evitarli Il più possibile Andiamo a prendere Questi blocchi di carbone Che mi aiuteranno A creare torce E per l'appunto Ad impedire Lo spawn dei mob Grazie Molto comodo Ci voglio di provare Magari c'è davvero qualcosa Nascosto proprio No Ok Non c'è assolutamente niente E ci ho provato Sono Sono un sognatore Blocchi di carbone Vabbè Trasformiamoli In vero e proprio carbone Facciamo un altro po' Di torce Credetemi Molto molto Gradite queste E ne mettiamo un paio Una qua Una qua dietro E un bel po' Sul ponte Perché anche se Sponano mob sul ponte Credetemi Io sono abbastanza E guai Allora Prossimo passo Andare in quest'isola Piena di nether soul Oh mia Ho appena schivato Una freccia Non sapevo di poter schivarla Principalmente perché Non l'ho vista arrivare Allora Ehm Altro problemino Non ho blocchi Non ho blocchi ma questo possiamo Rimediare facilmente in realtà Sapete perché? Perché io ho scoperto Guardando dalla navicella Che qui sotto C'è una gran quantità di cobblestone C'è solamente da trovarla Quindi che dite se facciamo Una piccola deviazione Nel corso principale Delle cose E andiamo a cercare Questa fonte Infinita Cioè infinita è un kaiser Questa fonte Abbastanza larga Di cobblestone Sotto la mia base Se non che sto tornando dalla mia base Quindi scaviamo a destra Potrei incontrare la mia base La mia scala di prima No No Ok Non è un problema Eccola qua ragazzi Cobblestone Non so quanta ce n'è Spero almeno Quattro livelli Ok Molto di meno in realtà Molto molto di meno No Seaverfish No Chi è lo strunzo Che mette Seaverfish Davvero Per mettere Seaverfish Sare davvero un po' stronzo Anche pieno di lapislazuli I lapislazuli Mi servono solamente Per fare gli enchantment Perché questa mappa Mi è trattata Nella 1.8.8 Eh Mi coprerà che devo ancora trovare Un enchantment table Ma va bene Vedremo poi Come fare Intanto Torniamo su Perché ho abbastanza Terra E ho abbastanza Cobblestone A poter andare qui Con tutta tranquillità E evitare Di andarci Perché c'è uno scheletro Ma non mi fermerà Questa cosa Perché io sono più forte Di lui Non è vero Ho paura Non è vero Scappa un attimo Ce l'ho un arco Non ho un arco Non ho un arco Se salto da qui Riesco a prendere No Ho i miei dubbi Ho decisamente i miei dubbi Non mi sparare per favore Sto cercando di fare la cosa giù Non mi sparare Guarda lo so Che ora mi spara Guarda sto stronzo Ah Ciao Ugo Ciao Ugo Minchia mi ha preso Veloce Mi ha mancato Veloce Finché spari di nuovo Ok Ho un ritmo da seguire Ma posso farcela Anche se da qui Penso di potercela fare Corri Ok mi son salvato Mi son salvato Evitiamo che gli zumi Mi cadano addosso Non mi cadere addosso No 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 Via Viola qua Viola qua Ok Ok Sto resistendo Mini base sotto l'isola Troppo hackab Su real power C'è un po' di grave però Questa nessuno me l'aveva detto Ok Morica di giù Cazzo no Mi serviva Mi serviva Il buon meal Ok c'è un creeper La cosa positiva E che essendoci anche la soul send Dovremmo essere coperti Un attimino Da questo fatto C'è un blocco d'oro Cosa interessante Il fatto che abbia già visto Due blocchi d'oro Mi suggerisce una cosa In particolare Cioè Che sia un qualche tipo Di achievement Ma come vi dicevo Nel scorso episodio I achievement Non li calcoliamo Neanche di striscio Esploso un creeper Che bello Era proprio quello Che stavo aspettando Per entrare In questo dungeon Che ho visto Ho del cibo Minchia non ho del cibo Posso craftarmelo No Solo i funghi Colore marrone Che bello Che bello Andare in giro Con le cose sbagliate Vabbè Usiamo la golden carrot Ci aiuterà un pochino Nell'andare avanti In questo dungeon L'unica cosa è che Senza bombial Non posso manco Andare a coltivare Le patate Va la va la Facciamo un attimo Spazio qui Non mi sembra Molto promettente Questo come No c'è un Witherskeleton Uh c'è una cesta Ok la cesta mi ispira Buongiorno signor creeper Cada 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 Ok ok Non mi possono sparare Non possono neanche Arrivare di qua Vediamo cosa c'è In quella cesta Per favore Cibo Che il cibo sarebbe Molto gradito No che cazzo fai Dai leva il blocco Leva la soul sand C'è un martello Con knockback 5 di attack Beh è lo stesso Della mia spada Quindi non mi costa Niente sostituirlo E posso far spawnare Dei pipistrelli Questa poi me la spieghi Perché i pipistrelli Non mi servono Assolutamente a niente Vai spara Spara Non spara Vai spara Un po' più di qua Grande Si mi sta aiutando Non è vero Mi ha aiutato pochissimo Ok allora Cerchiamo di creare Un attimo Un ponticello Ho il knockback Ezi Non per dire E infatti è caduto E infatti è caduto Anche lui Ok facciamo giusto In modo di non cadere Malamente Ok ok Abbiamo trovato la cesta finale C'è anche Una testa Ma sai cosa Ma prendiamo le teste Di Wither Che ne sai Potremmo affrontare Cosa Cosa mi sta a significare Questa cosa Eh Eh What the fuck Perché tutti questi Eventi colorati Mi incazzo Mi incazzo Mi hai fatto fare tutto Sto da giun per niente Complimenti Complimenti davvero No no davvero Ah ah Molto ridere Ecco infatti Ci sono esattamente Tre teste del Wither Questo per me Sta a significare Solo una cosa Arriverà a un punto In cui dovrò evocare Il Wither In questa mappa Magari come episodio finale Potrebbe essere Una cosa interessante Considerando che siamo Nel vuoto Tassa sta roba E dammela Ok Ho tre teste del Wither 23 soul sand E non ho paura Di usarle in nessun modo Liberiamoci un attimo Della gravel E di quello che non possiamo usare Con Con prontezza Perché Non ho molto spazio Nell'inventario C'è qualcos'altro Qua sotto Ho paura a sporgermi Perché comunque Essendo soul sand Non è che sia proprio La cosa più Affidabile del mondo Ok torniamo su Abbiamo esplorato quest'isola Penso non ci sia nient'altro In quest'isola A dire il vero Questo vuol dire Che sempre in tema nether Possiamo andare Alla prossima isola Che è proprio qui di fronte Le golden nugget Le golden nugget No nether brick Non mi servono No no A tenere golden nugget Le blaze rod Magari è utile Ok Ma queste scale Servono a qualcosa Non lo so Probabilmente qua sotto C'è un Oddio Mi ha fatto un colpo Non ci metti Un qualcosa di sotterraneo Sento anche degli slime C'è per forza qualcosa Ti sento Ti sento Ok Ok No Questa è l'altra È l'altra Di c'è dove sono appena andato Merda Sapete cosa? Questi spawn Un bat Mi sa che non saprà niente Spawniamo più pestelli Va la va la La bat caverna Andiamo su Ok Prendi tutta la nether Che invece Che sono blocchi Che potrebbero essermi utili Tutti questi bat Così non è che mi siano Buongiorno Buongiorno La lascerò in pace Perché ho paura di lei So È un po' da codardo Ma è così Perché corri così tanto Stai un po' calmo Non correre Se me corri apposta Perché sa Che prima o poi Lo colpisco Allora Qua sotto c'è per forza Uno spawner Di qualcosa Curo che ci sia qualcosa Vedi quanti Quanti cosi sento Ah no Sono tutti qua Ah bene Morite Ok E'erano tutti fuori proprio Cos'è quello Uno slime gigante Non lo so Non lo so Iniziamo ad uccidere Tutti questi slime cosi Evitando magari La butto lì Che ci uccidano malamente Questi pigmen Ok Stavo per cadere Malissimo Ok Ok Un po' deludente Quest'ultima isola Qua almeno c'era il dungeon Qua C'era niente C'era solo quella cesta Però scherzo Scherzo C'erano due diamanti Posso farmi una spalla di diamante E non è Poca roba Ammazziamo tutti questi slime Che sono una rottura di kabasisi Immonda davvero Morite Morite Un'ascia con knockback E non ho paura di usarla Morite Ok sono morti E non fare danni te Un'unica cosa Creiamo la parte finale del ponte Ci arrivo No Ok Sono ancora vivo Nessun problema Non temete per Zio Suri Zio Suri è ancora vivo Non si sa come Quel creeper mi ha davvero preso di sorpresa Ok Sono arrivato al ponte Anzi Ora che ti dirò tutta Te la dirò davvero tutta Cancelliamo il ponte In modo che solo io posso andare oltre E i mob non possono arrivare da me Andiamo alla base Purtroppo Vediamo se è cresciuta la patata Da qui si vede Beh penso di si Patatina Patatonza Sta crescendo ma piano Davvero pianissimo Un po' di bombial aiuterebbe Il problema Niente bombial Per Zio Suri Sai cosa devo fare Devo fare un mob spawner Secondo me aiuterebbe tantissimo Con la produzione di bombial almeno Fatto sta signore e signori Che abbiamo Dalla nostra parte Nel nostro inventario Due diamantoni Che posso utilizzare Per farmi una bella spalla di diamante Che di sicuro Non sarebbe poca roba Posso poi craftarmi Un Ehm Che cosa Sai cosa Andiamo a farlo Andiamo a farlo Si Vi chiederete cosa Andiamo a craftare Signore e signori Un bellissimo E simpaticissimo Amico Della neve Cioè Uno snow golem Mi serviranno un po' Di Queste cose Un po' di fence Perché non voglio Che scappi il mio amico Sei un mio amico Non voglio che scappi sul serio Ok Ho la neve Ho la pumpkin Spero solo E spero che qui non abbia failato Il creatore della mappa Che questo sia un bioma Un deserto Allora sei coglione Sei coglione Che cazzo Mi metto il bioma Nel deserto Dove c'è la neve E come faccio A spawnarlo qui Per magari Qua Non è deserto No è deserto Rappertutto Ah beh così Non può piovere Beh ha senso Non può piovere Nello spazio Vi voglio far vedere Una cosa Se io provo a evocare Il mio amico Snow golem Per sicurezza Metterò comunque Le fence Metti caso Che ha modificato qualcosa Non lo so Non funziona Un cazzo Va bene Cazzo meno Prima farlo a evocare Boom Morirà di atroci sofferenze Mi dispiace Non l'ho fatto apposta Povero lui Povero il mio amico Di cui non mi ricordo il nome Non ho mai colato un nome In effetti Va bene Non è un problema Per questo video È tutto Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi ricordo di lasciare Mi piace Se vi è piaciuto questo video Di iscrivervi al canale Se non lo avete fatto E di iscrivervi su twitter Instagram e facebook E ovunque voi vogliate E vi saluto Ciao turuturututte